Mattia Greco, tecnico dell'Asca, sta per ricominciare il campionato, domenica giocherete a San Salvatore, oggi intanto un buon test contro il Vadese. Sì, oggi un ottimo test contro una squadra forte, una squadra dove prima del giorno di promozione, abbiamo dato spazio un po' a tutti, a tanti giovani, è stata una bella prova. Hai parlato di giovani, il bivaio sta crescendo bene, si sta lavorando molto bene a livello anche di settore giovanile, oggi i protagonisti Tartare e Boveri, due 2008 addirittura. Sì, due 2008 che si stanno allenando con noi dalla preparazione invernale, sono giocatori che hanno un grosso margine di crescita e noi cercheremo di farli crescere, facendo di venire spesso in prima squadra e lavorando, non dobbiamo avere fretta, ma le potenzialità ce le hanno, adesso piano piano ci lavoreremo. Secondo te quanto è importante ripartire bene? Importantissimo, le prime 4-5 partite sono fondamentali per riprendere quello che abbiamo lasciato, diciamo il girone di ritorno, come l'abbiamo alzato, devono sicuramente partire bene, subito essere forti, attaccare le seconde palle, essere subito cattivi. Grazie in bocca al lupo. Grazie, viva lupo.